per fare questo è necessario muoversi come si deve ma chi può sapere come si muovono al meglio gli strumenti finanziari che supportano le aziende nei nel loro credito verso i mercati esteri gli strumenti migliori e la società che gestisce questo tipo di di garanzie di accompagnamento alle aziende per quanto riguarda l'assicurazione del credito e sace per questo abbiamo qui come relatore stefano meneghel funzionario di sace a cui chiediamo di intervenire e cosa ci può dire su questo importante ruolo che ha sace nel supportare le aziende per quanto riguarda il credito e l'assicurazione dei crediti verso i metati esteri a lei la parola stefano richiedo anche se forse non sono il più anziano e andrebbe se possiamo darci tutti del tuo a me farebbe molto piacere quindi ho dato dato del di solito tra tra di noi associati ci diamo tutti del tuo per me non c'è problema io vi chiedo se posso formalmente darvi del tuo mi fa molto piacere insomma allora condivido lo schermo con per una brevissima presentazione e non so se se mi vedete ok allora sono staffano meneghel l'accento su gel di origine veneta quindi da questo punto di vista però mi chiede dal centro sud sono tutti meneghel quindi nessun problema anche come meneghel eh in realtà mi chiamo meneghel ehm personalmente sono circa venticinque anni che mi occupo di assicurazione del sul credito eh da circa un anno e mezzo sono da dodici anni in sace eh in sace e da circa un anno e mezzo ehm sono eh in ho rivesto un ruolo diverso da quello che ho ricoperto finora in in varie compagnie insomma che è quello del regional manager del per le PMI del centro sud ehm sace ehm dicevamo prima in una pre presentazione per così dire eh l'export credit agency italiana ecco ci sono delle omologhe in tutti i paesi europei come Germania Francia Grecia e quant'altro e di fatto la sua funzione da sempre è quella di ehm eh cercare di ehm aiutare le aziende eh a internazionalizzarsi a sviluppare i mercati internazionali come propri mercati ehm detto questo sace poi nel corso del tempo non voglio essere troppo lungo nel corso del tempo è diventata anche società di società di factoring è diventata società di assicurazione del credito domestico e quindi a breve termine società di fideiussione e cauzioni eh e non ultima società di recupero credito e eh attraverso una nostra mh controllata che si chiama SACE SRV che che dediene inoltre il patrimonio informativo del del gruppo intero ehm una breve menzione al 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 di là insomma di del di questa slide che dice quante quanto siamo presenti sul mercato insomma da quarant'anni eh venticinque mila euro venticinque mila imprese supportate in questo momento sono ventottomila e un impegno di intorno ai centosettanta miliardi eh al di là di questo vi volevo rappresentare un mh proprio per descrivere la funzione tipica di SACE che è quella appunto dell'internazionalizzazione anche questa risk map che è elaborata dal nostro centro studi a un SACE ha una forte forte interesse a eh lo studio dell'andamento eh di tutti i paesi eh del mondo eh annualmente presentiamo un report che poi viene aggiornato sappiamo benissimo ormai le le vicissitudini mondiali eh si svolgono non più nel nel giro di anni neanche di mesi ma di settimane e come vi dicevo aggiorniamo questa risk map nel corso dell'anno eh e comunque sul nostro sito che è una sorta c'è una sorta di ehm interazione su chi vuole eh percepire rischio corpore, rischio paese eh vi invito insomma a visitarlo SACE.it cliccando sulla sulla mappa interattiva si si hanno una serie di informazioni su rischio corpore anche sorprendenti non so per esempio su rischio corpore e rischio paese anche sorprendenti magari ci sono dei luoghi comuni che associano alcuni paesi a una forte a una forte sensazione di rischio in realtà non è così eh e questo lo possiamo lo possiamo vedere con con dei dati eh e l'esatto contrario dei paesi che sembrerebbero sempre stati affidabili affidabilissimi eh in realtà non lo sono non lo sono così tanto insomma c'è qualche sorpresa vi invito insomma ad accedere al sito ehm e vi dicevo quindi SACE SPA che è l'ECA eh propriamente detta SACEBT che è la società di assicurativa quindi sotto IVAS che fa assicurazione del credito domestico ed estero a breve termine nonché le cauzioni attraverso l'acquisizione di una decina di anni fa di una compagnia che si chiamava Assedile che è confluita insomma nel nel perimetro delle società del gruppo SACE. SACE FCT che è iniziato con esclusivamente con lo smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione essendo SACE una controllata del MEF eh ci risultava particolarmente facile laddove le pubbliche amministrazioni eh certus san in certus quando cioè si sapeva che avrebbero pagato ma non quando quindi abbiamo creato una decina di anni fa questa società di factoring con una startup e SACE SREB quella che vi dicevo prima. Ora SACE FCT FCT tornando indietro scusate è diventata a tutti gli effetti una società a mercato quindi con i prodotti tipici che offre un un factor eh SACE SREB che è la società di recupero crediti soprattutto punti di forza soprattutto all'estero con anche la possibilità di dichiarazioni di recuperabilità del credito con poche con pochi euro insomma si possono portare a bilancio con indicazione specifica della dichiarazione di SACE SREB si possono portare a bilancio le perdite definitive verso buyer esteri. Dal punto di vista eh mi risulta particolarmente difficile essere essere breve in in un intervento parlando di tutto il perimo dei prodotti del perimetro SACE di tutte le aziende SACE ehm dal punto di vista eh meramente attinente al tema che stiamo parlando quindi eh sulla sulla tutela verso le vendite all'estero delle aziende eh ho scelto queste queste coperture assicurative o coperture eh dal punto di vista della valutazione del merito creditizio della controparte. Tutte coperture che sono offerte dal dal gruppo SACE che possono essere ehm seguite e possono essere gestite tutte online quindi attraverso un processo di digitalizzazione. Valutazione azienda è un servizio sempre sul nostro sito attraverso la valutazione del rischio corporate della controparte si ha una valutazione eh senza dover acquisire pacchetti di punti o o fare contratti con società società insomma di informazioni commerciali eh SACE può valutare un'azienda sia italiana che destera con con pochi con pochi euro eh stabilendo poi un una valutazione di merito creditizio quindi ehm attraverso la valutazione poi la la valutazione che dà SACE ha un impegno anche dal punto di vista assicurativo qualora eh il l'azienda l'esportatore che voglia eh acquistare questo questo servizio può avere la conferma del dell'importo o del merito della valutazione del del buyer estero attraverso poi una copertura assicurativa eh di fatto dal punto di vista delle coperture globali eh siamo un po' come i nostri omologhi non ci siamo inventati nulla eh questo lo dico molto molto spassionatamente coperture globali è un prodotto maturo che eh come vi dicevo seguo da venticinque anni e nel corso del tempo di fatto eh tranne la clausola un po' che 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 in particolare per cui si sveglia una una compagnela e la butta dentro questa offerta di fatto è rimasta sempre la stessa cioè un pacchetto complessivo dei crediti verso eh il mercato domestico verso l'estero che bisogna assicurare totalmente a fronte di un pagamento di un premio in percentuale sui su il sul fatturato che si svolge eh che si svolge globalmente all'estero in Italia. Questa è la copertura tradizionale che offrono eh un po' tutti i player sul mercato sono rimasti tre quattro ormai quindi eh questo lo facciamo anche noi lo facciamo da sempre. La cosa che mi mi preme però anche contestualizzare in questo in questo discorso è la possibilità di Sace rimanendo l'ultima voglio entrare troppo in tecnicismi però eh rimanendo l'ultima compagnia italiana con Sace e BT eh l'ultima compagnia italiana di fatto le altre sono tutte branch eh di compagnie straniere come Euler come Cofas come Atradius e quant'altro ehm Sace ha il privilegio di poter essendo un soggetto vigilato IVAS di poter offrire anche coperture selettive all'estero quindi eh il fatto di di per gli altri di dover assicurare tutto un pacchetto eh crediti quindi tutto il fatturato dell'azienda verso verso i mercati domestici o verso l'export questa è la sola eh discriminante che si può utilizzare non non avviene per per Sace sopra solo per l'estero quindi cerco di fare un po' d'ordine in quello che ho detto Sace può assicurare un rischio singolo all'estero mentre il mercato domestico deve assicurare tutto il pacchetto del 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 credito eh lo può fare senza vincoli di volumi quindi di fatturato considerate che io personalmente ho assicurato una vendita di poperoncino ehm di un esportatore eh calabrese per 800 euro su un'azienda francese eh questo esportatore non conosceva la controparte eh interessava fare questa vendita anche se piccola però non aveva gli strumenti per poter capire se la controparte fosse fosse stata un un cliente meritevole insomma eh a fronte di un pagamento di premio ridicolo 8 euro eh perché era l'uno per cento 8 euro abbiamo coperto il 90 per cento della fornitura l'azienda quindi l'esportatore non ha alcuna alcuna preoccupazione se non quella di eh produrre il proprio il proprio il proprio prodotto di esportarlo nei termini di venderlo e nel momento in cui il la controparte non dovesse pagare Sace copre il 90 per cento e non solo gli fa il recupero del credito e qualora il recupero fosse andasse a buon fine recupera del cento per cento quindi di fatto non non ci sono queste queste preoccupazioni eh questo secondo me è uno strumento soprattutto in questo in quest'ambito e soprattutto per le aziende che si affacciano all'estero magari anche per commesse un po' più grandi per carità poi abbiamo una diversificazione di prodotti anche per beni strumentali per prodotti di largo consumo per eh quindi tutte le tipologie di prodotti che le aziende italiane possono esportare diversificate a seconda della tipologia appunto del prodotto e della tipicità della vendita che viene che viene poi realizzata non so un bene strumentale viene viene venduto con dilazione magari a ventiquattro mesi con un acconto del venti per cento con degli step eh di avanzamento da lavori che coprono quindi i pagamenti di fatturato sulla base di step di avanzamento di lavori oppure come vi dicevo la la vendita del peperoncino secca singola per con la dilazione 60 giorni nel momento in cui viene eh fornito il cliente paga e via così insomma nel momento in cui non paga eh rimborsa rimborsa saci ehm quindi coperture singole a medio e lungo termine coperture di commesse export indipendentemente dalla durata copertura di beni strumentali o di prodotti di consumo ma altra cosa che facciamo molto spesso ci troviamo di fronte ad aziende che dicono ma no io sono già assicurato su credito sono assicurato con con FAS con Euler con Atradius però molto spesso mi trovo dei fidi eh in Italia e all'estero quindi del degli importi che la compagnia riesce a eh concedermi su un debitore che non rappresentano effettivamente le mie esposizioni eh verso il debitore quindi la compagnia si tiene un po' più bassa rispetto alle mie esigenze. Sotto questo punto di vista noi possiamo integrare la copertura data di primo livello cioè un un esportatore ma anche sul mercato domestico che vende centomila euro ma che ha un fido da parte della compagnia di primo livello di cinquantamila euro può espandere questo fido anche per un tempo limitato non so penso per esempio a dei picchi di esposizione per tipologie eh di prodotti molto molto legati per esempio alla stagionalità eh non so eh il mercato del pomodoro si fa in un mese in un mese all'anno si concentrano tutte le esposizioni delle aziende e poi via via vengono pagate nel corso del tempo magari nel ci sono delle delle esposizioni eh molto importanti per cui la compagnia di primo livello non riesce a coprirle questi picchi di esposizione possiamo intervenire noi tranquillamente ehm quindi queste sono tipicità propriamente della della di Sace eh in quest'ambito insomma del trattiamo lo sviluppo del mercati esteri possono ritornare veramente utili io ehm non non voglio entrare nei nei dettagli anche perché eh non è richiesto non è richiesto insomma che si sappia tutto di un prodotto ehm nei giorni scorsi per esempio parlando a un un convegno di commercialisti che mi chiedevano nel dettaglio come funziona una polizza dicevo guardate non è importante conoscere come funziona una polizza considerate che la polizza base nostra sulla sullo globale estero presenta circa sessanta appendici è impossibile da parte eh di un di una persona che ha una professionalità diversa da quella dell'assicuratore del credito conoscere tutte queste sfaccettature altrimenti anche professionalmente insomma eh si ridurrebbe il nostro il nostro ruolo però non è questo insomma il compito di ehm che voglio che voglio voglio segnalare il compito è essere a conoscenza del fatto che SACE può offrire determinate soluzioni nel momento in cui vengono richieste io mi posso fare da tramite con tutte le persone o con tutti gli specialisti di prodotti che siano assicurazione del credito, factory, fidei usioni eh e quant'altro nel nel mondo nel mondo SACE eh faccio una breve una breve esempio per esempio di una di una tipica eh operazione ehm di vendita di un bene strumentale eh si firma un contratto, si prende un un acconto il l'esportatore quindi italiano inizia a produrre il proprio macchinario e lo consegna e eh viene pagato magari a stati di avanzamento del lavoro oppure al collaudo oppure si tiene un 5% alla fine della della commessa. Tutti questi stadi di eh dal momento in cui si acquisisce un ordine al momento in cui si consegna e si prende anche l'ultimo 5% del del pagamento finale possono possono esserci dei rischi eh che l'impresa che l'impresa corre. Ci può essere per esempio il primo rischio che è quello della produzione cioè prendo una commessa prendo l'anticipo metto in produzione sono pronto a a a eh esportare il mio il mio bene a quel punto il la mia controparte non ritira più il bene e mi lascia col cerino in mano. I sosti i costi sostenuti per la produzione di questo bene vengono coperti con il rischio di produzione. Rischio di distruzione dei macchinari. Consegna il il macchinario viene perso, distrutto, danneggiato. C'è questa copertura. Nel momento in cui per esempio vengono rilasciate dei performance bond o degli advance payment bond il rischio per esempio che il nostra la nostra controparte estera escuta la cauzione indebitamente. Da questo punto di vista Sace copre l'indebita escussione della cauzione. È il rischio del credito nel momento in cui consegno la merce tutto a posto e il cliente non mi paga perché interviene un momento di sofferenza. Questo è coperto anche questo nell'ultimo stadio dalla copertura di Sace. Questo è un po' tipicamente per esempio la copertura di una vendita di un macchinario, di un bene strumentale. Io avrei finito. Vorrei fare solo un'ultima segnalazione. Lascio i miei riferimenti comunque a chiunque lo voglia. Vorrei fare una segnalazione perché con il nuovo piano industriale di Sace triennale c'è stato richiesto di essere più presenti verso le PMI, le piccole e medie imprese italiane che per noi rappresentano le aziende che hanno un fatturato sotto i 50 milioni di euro, che sono un po' il 90% del tessuto economico italiano di fatto. Dobbiamo necessariamente come Sace essere percepiti maggiormente da queste società. Per fare questo qualche tempo fa, Giuseppe Vargiù, il dottor Vargiù lo sa, visto che ci chiamiamo Giuseppe Vargiù, è stato un po' il pioniere di questa cosa, Sace ha cercato di essere più presente sulle PMI con i canali tradizionali, ormai era consolidata la presenza, ma attraverso tutte quelle persone che ruotano all'interno delle aziende e che risolvono giornalmente i problemi delle aziende, problemi o percepiscono le necessità delle PMI, che sono un po' i consulenti, gli export manager, le società, insomma tutta una serie di commercialisti, i fiscalisti e quant'altro. Quindi tutta una serie di persone che ruotano e gravitano intorno alla PMI e che giornalmente offrono all'imprenditore delle soluzioni. Abbiamo cercato di accontrare accordarci con queste persone, riconoscendo loro il bollino di partner Sace, attraverso uno scambio reciproco di accordi controfirmati da entrambi, un riconoscimento quindi a un partner come alcuni l'hanno definito e mi è piaciuto molto Sace Point, cioè Giuseppe Vargiù è un Sace Point in Sardegna per tutte le sue aziende. Qualora voglia stabilire un contatto con Sace troverà in prima battuta a me a disposizione e tutti gli specialisti di prodotti. Io come vi ho detto ho una specializzazione sul rischio credito, ma cauzioni probabilmente ho un'infarinatura, ma vi devo mettere in contatto per specificità col mio collega. Nel factoring lo stesso, nel factory della pubblica amministrazione ci sono altri operatori, altri colleghi che fanno questo. Quindi è mio compito mettere in contatto tutte le aziende o i consulenti delle aziende che vogliono capire come funziona il mondo Sace. Come vi dicevo precedentemente, poi negli ultimi due-tre anni queste operatività si sono accresciute con il fatto che i decreti Salva Italia, Support Italia e quant'altro sono stati veicolati tramite Sace che offre sempre la controgaranzia. Faccio un esempio Support Italia fino al 31-12 è una controgaranzia rilasciata da Sace al sistema bancario che copre il 90% il sistema bancario nell'erogazione di un prestito. Fino al 31-12 ha un costo risibile per l'azienda, non incide sul di minimis, non incide sul castelletto della banca verso l'azienda, perché non usufruirne? Quindi per me se mi contattate anche di domenica alle 11 mentre si guarda alle 10 la partita, per me è un gran piacere poter mettermi in contatto, mettermi in contatto con le persone del gruppo Sace che possono risolvere questi problemi. Questo solamente come messaggio perché al di là di questo insomma poi i tecnicismi ci possiamo parlare in separata sede anche se qualcuno li vuole questi tecnicismi e siamo disponibili ad approfondire in qualsiasi momento queste cose. Io avrei finito, se ci sono delle domande sono disponibilissimo. Bene, ottimo, ottimo perché... Non so se sono andato lungo, un pochino forse. Ma però visto il tema, visto la criticità che vediamo su più fronti hanno le aziende, tant'è vero che le aziende cercano di fare qualunque scamotage per cercare di non gestire, non entrare nelle tematiche di assicurazione del credito, mentre invece il mondo attuale prevede che in qualche misura bisogna dare qualche cosa alle aziende, ai potenziali clienti e poter magari fare delle direzioni, quindi è necessità anche di direzionare con delle assicurazioni il rischio. Questo è un tema assolutamente necessario, sapere che a livello istituzionale SACE e adesso più che prima ancora disponibile e collaborativa, dà la possibilità di collaborare con le aziende per anche pur piccole garantirsi e coprirsi dei rischi, questo è molto molto importante. Tra l'altro noi al nostro interno abbiamo professionisti che lavorano con tutti i tipi di dimensioni e aziende, ma la stragrande maggioranza di noi lavora con quel grande numero di piccole e medie imprese che tu prima hai citato come quel 90% del tessuto produttivo italiano, quindi assolutamente proprio quel target che noi conosciamo bene, con cui lavoriamo e che spesso è un po' restio a usare cose che ritiene troppo complicate e la gestione del rischio rientra tra queste cose, quindi direi che è assolutamente a tema.